Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video e benvenuti soprattutto nella Rigori Challenge con tutti i giocatori dell'MSP! Ci siamo, siamo pronti per sfidarci in una Rigori Challenge per capire chi è il rigorismo dell'MSP. Sarà una Rigori Challenge ad eliminazione molto semplice e funzionerà così. Se chi sbaglia è quello dopo, segnerà e verrà eliminato. Come potere in eccezione, un applauso ai portieri, bravi! E allora iniziamo con questa Rigori Challenge ad eliminazione, let's go! Ma prima di continuare con il video ragazzi volevo presentare la sponsor di oggi, ovvero A-Rap. Nello sport come nella vita è importantissimo idratarsi ragazzi e con questa magnifica borraccia potrete farlo con un gusto unico. Grazie alla rivoluzionaria idea di A-Rap avrete la possibilità di scegliere il gusto dell'acqua che bevete senza nessun additivo. Ormai ragazzi quasi tutti hanno sentito parlare di A-Rap. La prima e unica borraccia ragazzi che dà gusto all'acqua tramite l'olfatto retronasale. Vi basterà semplicemente riempire la borraccia d'acqua e inserire questo magnifico pod sopra la borraccia A-Rap, tirare su e poi il gusto sarà fatto signori. Grazie a questo sapore gradevole si invogliati a bere acqua durante tutto il giorno, il che è fondamentale per tutti ma specialmente per chi fa attività fisica come noi. Ok Samone adesso ridacci la nostra borraccia A-Rap. No quella è mia, bimbi, bimbi è mia quella borraccia! Va bene ragazzi link in descrizione per poter acquistare la vostra borraccia A-Rap e bere con un gusto unico assieme a me. E adesso proseguiamo con la magnifica challenge dei Rigori con l'MSP. Vi assumo io la responsabilità ragazzi quindi partirò io, non ho tensione, non ho ansia perché sono rigorista e loro lo sanno. Andiamo al prossimo! E ragazzi il cap prende la palla ragazzi, potrebbe eliminare Govoni, secondo mister. Prima eliminata ragazzi, lo salutiamo. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ehi! Bellissimo rigore ragazzi, come l'ha trasformato. È proprio lui signori, il fenomeno dell'MSP, colui che ha deciso le sorti di questa salvezza. E' grandissimo! Facile per lui, freddo, freddo! Eccione! Il portiere dell'MSP! Tranquillità! Tranquillità, calma, calma. Eccolo, l'esterno più veloce della promozione, signori. Ohhhh! Lo spiazza! Prima, il trequartista più in forma della promozione, attenzione! Cavetto morbido morbido, ma che personalità questo giocatore? Questo giocatore è? Biciardo, numero 9 d'esperienza, nella prima categoria della promozione. Signore! Mamma mia! L'esterno, il terzino più criticato della promozione. Risponde così, risponde così, ai commenti. Parte Traina. Peggiore! E sbaglia, ragazzi, in maniera clamorosa. E quindi, si presenta sul dischetto, il numero 9, Bartolini. Potrebbe eliminare Traina. Ohhhh! 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 La pressione si fa sentire, ragazzi! La pressione si fa sentire. E Bartolini sbaglia, ragazzi, in maniera clamorosa. Dal monte! Qualcuno vada dietro! Nooo! 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 Allora ragazzi, se io segno potrei eliminarle tre in un solo turno, in un solo giro. I muci di mister. Li! 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 La mutiamo! I ragazzi! Secondo giro, ragazzi! Riparte il mister. Non so, ero partito io, però ho eliminato gli altri. Ripartiamo. Vai pure mister! È bella esperienza. È un rigorista Questa è imprendibile ragazzi Questa è proprio imprendibile Neanche se ci butti i guanti E Ferrone sbaglia signori Potrebbe essere eliminato In maniera clamorosa Hai un peso Hai un peso non indifferente Mamma mia Fredissimo E allora salutiamo anche il portiere Ferrone Ciao ciao Bello Della cantera del Barcellona L'unica punta centrale rimasta in gioco ragazzi Si fa valere E zittisce così il pubblico signori È finito il secondo giro Ragazzi aumentiamo la difficoltà E aumentiamo soprattutto la pressione D'ora in poi chi sbaglia È automaticamente eliminato Vale a prendere Vale a prendere E ora sta di nuovo al mister signori E il mister si condanna da solo Ci saluta Ciao mister Mai cambiare angoli nel rigore Mai cambiare angolo nel rigore Lezione numero uno E allora vediamo Bellissimo Siamo rimasti sempre pochi E sale la pressione Sale la pressione Nella giungla Sale La pressione Ma il sangue è preso Siamo ricola Sale la pressione anche per lui Sale la pressione Ma non c'è pressione Il numero dieci Il numero Dieci Si fa stregare E viene eliminato Anche a questo turno E si salva anche lui a questo giro Siamo rimasti in sei rigoristi ragazzi Adesso aggiungiamo altre difficoltà Spide debole Come siamo messi Ma gesto Però a questo giro Veniamo eliminati Solo se il prossimo poi sbaglia Allora parto io Veniamo a pan Veniamo a pan Veniamo a pan Veniamo a pan Viete debole Vamo Vieni Anche col piede debole Non sbaglio mai Allora parte Vopolo Vabbè Calcio con tutti e due Questo fenomeno 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 Lei che gioca la casa in promozione Ma capito Io non mi alzo dal letto Con il sinistro Proprio Ma proprio E colace potrebbe clamorosamente Essere eliminato Da rim signori Rim Che brutto E colace Viene eliminato Ragazzi Manca ancora Ferraco con il sinistro E poi dopo vedremo in quanti Rimaremo Clamoroso Anche Ferraco E ora ragazzi Se segno Potrei eliminare Ferraco Attenzione E ora ricomincia il giro Ma che parata ha fatto Ma chi sei Ma chi sei Ma chi sei Attenzione Marte Rotatori Forte lì E adesso sta rim signori Marte Lo stesso Che parata Altra Paratona Mamma mia signori Rim Viene eliminato E quindi Finalissima Io Contro Rotatori Allora ragazzi Rotatori Avantaggiato Perché viene dalla cantera Del Barcellona E io E quindi Finalissima ragazzi Io Contro Rotatori Vediamo Chi sarà Il rigorista Finale Di questa stagione Se sbaglio E lui segna A V Viceversa Finale Playoff Finale Playoff Finale Playoff Dai So che aveva intuito Però non la prendi Non la prendi Oh no Non ci credo Non ci credo Clamoroso 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 È valido È valido È gol È gol È gol di più Di più Ben Ragazzi Dalle regie Ci suggeriscono Da fermi Col mancino Non sappiamo Cosa fare Per metterci in difficoltà Di putt Di putt Di putt E quindi ragazzi finisce qua questa rigore di challenge della MSP Centrocampo domina, vince i campionati, vince le challenge Ragazzuoli finisce qua questo magnifico video, mi raccomando lasciate un bellissimo like Ci vediamo al prossimo video che sarà un bellissimo mondialito tutti noi quanti contro Quindi mi raccomando non sarà assolutamente da perderlo E ci vediamo in un prossimo video, dalla MSP è tutto, bella ragazzi Grazie